Endless Love del 13 e 14 5, Asu mette in guardia Kosquogliu dal ferire Kemal. Nian e Kemal scoprono che la tomba dove è stata sepolta la ragazza uccisa da Ozan è vuota. Nell'anteprima delle puntate del 13 e 14 maggio della soap Endless Love, Emir scatena la vendetta su Kemal con Zainab. Mentre Nian e Kemal scoprono che la tomba dove è stata sepolta la ragazza uccisa da Ozan è vuota. Si vede che si nota qualcosa. Dopo una notte d'amore, Emir scaccia a Zainab l'imprenditore e la giovane soidele finiscono per trascorrere una serata romantica in una camera d'albergo di lusso prenotata da Emir. Ma dopo che la ragazza si è concessa a lui, Kosquogliu le chiede prima se si pente di stare con lui, e se lei risponde no, va da Kemal Zainab per un colpo. Non riesce a credere a queste parole e inizia a parlare male di Emir e inizia persino a picchiarlo. Rispondo che dovrei farlo perché era un pezzo. Ma lui la afferra per un braccio e la butta fuori dalla stanza, le getta i vestiti dietro le spalle e le chiede se pensa davvero che sia possibile innamorarsi di una ragazza della porta accanto come lei. Sconvolta, Zainab lascia l'albergo e vaga per le strade della città, rischiando di essere investita. Asu si rende conto dell'inganno di Emir e lo affronta. Dopo decine di chiamate perse da parte di Asu, ha risposto e si è fatto passare a prendere il compagno di suo fratello. Zainab non parla di Emir, ma rivela di essere stata usata dal ragazzo. Ma il giorno dopo, Asu vede Zainab e cosquogliu litigare violentemente e capisce che è stato lui a spezzare il cuore della nipote di Acchi. Così va nell'ufficio di Emir e lo definisce un cattivo e un giovane lo accuserebbe di sedurre le ragazze solo per ottenere soldi. Vendetta contro Kemal. Avverte su idere di non farle del male e chiarisce che non permetterà mai che ciò accada. Ma l'imprenditore non si arrabbierà troppo e le ricorderà l'accordo e l'obiettivo comune tra loro. Nian e Kemal indagano sulla notte che li ha separati. Tuttavia, Asu non lo ascolta e se ne va. Nel frattempo, Kemal e Nian si trovano nel luogo in cui Emir e Ozan hanno seppellito la ragazza uccisa dal giovane 6 en 5 anni fa. Kemal continua a scavare finché non trova il corpo della donna, ma poi si rende conto che la tomba è vuota. A questo punto capirà che tutto potrebbe essere frutto dell'inganno di Kosquogliu, e che potrebbe essere più grande di quanto pensi no. Decidono quindi di indagare sulla base di una foto di una ragazza bionda scattata con Emir quella notte di 5 anni fa. Kemal chiede aiuto al suo amico Zaire e inizia un'indagine. Amore senza fine disponibile anche il venerdì a tarda notte. Da venerdì 10 maggio sarà venduto anche il sapone turco fino a tarda notte. La serie andrà in onda quotidianamente dal lunedì al sabato, nonché nella tarda serata del venerdì immediatamente successiva all'episodio di Terra Amara. Al momento però non è chiaro quanto durerà questo programma perché tutto dipende anche dai dati auditel raccolti. Grazie. Grazie.